Marostica. Terremoto in maggioranza a Marostica. In consiglio comunale nasce il gruppo misto per Marostica. A costituirlo il vice sindaco e assessore alle attività produttive Simone Mattesco, con i consiglieri Maria Rita Frison, Loris Girardi e Angela Bernardi. Ribadire con forza l'identità del gruppo, lo scopo della decisione, presa dai quattro consiglieri, che ribadendo l'intenzione di proseguire il proprio impegno amministrativo, non hanno però escluso di valutare, caso per caso, il sostegno alle iniziative del gruppo del sindaco. Mussolente. Allarme inquinamento a Mussolente, dopo che nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di una sostanza di colore verde all'interno della roggia Trieste, nella zona di Casoni. Immediato l'intervento di Arpav e forze dell'ordine. Le operazioni di pulizia sono già state effettuate, ora però si attende l'esito delle analisi sui campioni d'acqua raccolti nella roggia. Schio. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia una gara di apnea organizzata ieri a Schio. Durante una delle prove in acqua, un quarantenne bolzanino ha accusato un malore. Ad accorgersi che qualcosa non andava, è stato uno degli addetti alla sorveglianza. Immediati sono scattati i soccorsi che hanno permesso di salvare la vita all'uomo. Asiago. È destinata a chiudere in negativo la stagione sciistica dell'alto piano di Asiago. I primi dati parlano di un meno 60% di presenze totali, circa 500.000 passaggi sugli impianti, in netto calo rispetto alla media di 1.200.000 delle scorse stagioni. Peggio ancora sembra essere andata per lo sci di fondo, che poco ha potuto recuperare con le nevicate tardive di marzo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.